In diretta dalla sala stampa del Comune dell'Aquila, dove oggi qui arriveranno le prime notizie relative alle elezioni amministrative, qui in studio presenti i troupe provenienti da tutta la regione, le televisioni locali, il radio e anche i media nazionali come Sky, Rai1 e Porta a Porta. L'attesa è grande, anche se al momento non c'è grande afflusso di candidati, sono tutti in attesa delle prime proiezioni e dei primi dati, fra poco avremo sicuramente numeri e cifre più importanti.